E andiamo subitissimo a vedere ovviamente il vincitore di oggi, vediamo un attimo chi è e vince Ludovico, quindi ovviamente facciamo subito il giro adesso Facciamo immediatamente quindi il giro della ruota della fortuna, vediamo subito cosa ha vinto Ludovico e vince il deltaplano di Batman, ti ricordo scrivimi su Instagram Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News, per andare a vedere anche oggi un sacco di nuovi leak Parleremo un po' di Fortnite Cina e delle loro ricompense esclusive e poi ragazzi inoltre andremo anche a vedere importantissimi leak per una nuova collaborazione Sia con Ariana Grande e sia anche con, ovviamente la collaborazione con League of Legends, ma prima di iniziare se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina, cerchiamo di raggiungere i 300 mi piace Vi ricordo poi tutti i miei social qua sotto nei commenti fissati in alto, mi raccomando TikTok che adesso anche lì esce ogni giorno un nuovo video Detto questo, incominciamo subito Iniziamo quindi subitissimo con la primissima novità che riguardano le FNCS, infatti eccolo qui il comunicato ufficiale, ne abbiamo già parlato comunque ieri Quindi se volete maggiori informazioni andate mi raccomando a vedere lo scorso video Semplicemente comunque si possono ottenere ben 3 ricompense che faccio vedere, ripeto, uno scorso video Io ho una skin gratis qualora ci posizioniamo insomma alle migliori posizioni E ovviamente c'è anche la Cup Community che per l'appunto è una specie di torneo che darà la possibilità per l'appunto di ottenere una skin Che è quella che abbiamo visto nello scorso video Poi semplicemente guardando insomma 30-20 minuti di live con i drop attivi su Twitch potrete anche ottenere ben 3 ricompense Che sono un emoticon, uno spray e infine una schermata di caricamento Prossima news invece ragazzi riguarda la collaborazione con League of Legends Infatti vi ricordo che oggi alle ore 16 ragazzi ci sarà ovviamente la live innanzitutto di TheGrefg In questa live verrà annunciato l'intero set e probabilmente verrà anche decriptato nello stesso momento all'interno dei file di gioco Inerente ovviamente a questa skin in collaborazione con League of Legends Quindi domani alle 16, anzi scusate oggi alle 16 4 novembre Se vi recate insomma nella live di TheGrefg su Twitch vi ricordo potrete insomma vedere l'annuncio ufficiale Poi sicuramente verrà anche comunque trovata esattamente in questo orario nei file di gioco Oppure Fortnite insomma darà anche la news nelle feed di Fortnite Quindi insomma la vedrete sicuramente E comunque sarà disponibile nel negozio oggetti questo sabato Fatemi sapere ovviamente se la prenderete Prossima novità ragazzi invece riguarda la patch 19.00 Infatti è finalmente iniziato il test per quanto riguarda questa patch Già mi sembra da qualche giorno in realtà è iniziato E ovviamente si tratta della nuova stagione Barra capitolo è ancora ovviamente il tutto da capire Quindi vedremo se sarà un nuovo capitolo o una nuova stagione Quindi per il momento non sappiamo niente Ci sono un sacco di indizi ovviamente per quello che riguarda il capitolo 3 Ma nessuno ha la sicurezza Quindi l'unica cosa che posso dirvi per il momento Aspettiamo Sicuramente verso la fine di questa stagione Si scoprirà subito se sarà una nuova stagione come sempre O se sarà direttamente un nuovo capitolo Poi ragazzi invece cosa volete Il capitolo 3 subito dopo questa stagione Oppure ancora le solite stagioni fino alla X e poi il capitolo 3 Fatemelo sapere ovviamente qua sotto nei commenti Cosa ne pensate anche ovviamente tutte le vostre teorie Adesso già che parliamo in capitolo 3 parlo anche della mappa Infatti in questi ultimi giorni che si parla tantissimo del capitolo 3 Chiaramente dati tutti gli indizi che ci sono Stanno girando insomma un sacco di mappe Che sono bellissime per la carità Però ragazzi sono fake Infatti ovviamente nessuno al momento può sapere qual è Abbiamo visto la creazione da parte di un utente Che potrebbe essere simile ma non è ovviamente quella vera E comunque tutte queste foto che trovate in giro ovviamente sono fake Ad esempio questa che tra l'altro è un misto tra capitolo 1 e un po' capitolo 2 Come possiamo vedere Comunque questa come tante altre sono tutte fake raga E seppur molto belle purtroppo non credo che siano quelle Prossima invece news Riguardo invece le sfide settimanali Infatti come possiamo vedere sono state già trovate all'interno dei file di gioco Le prossime 4 sfide insomma settimanali Il 10 novembre, il 17, il 24 e il primo dicembre Quindi nella data proprio del primo dicembre Dovrebbero essere poi terminate tutte quante le sfide per questa stagione Prossima news poi parliamo di Ariana Grande Infatti non si ferma qui la collaborazione tra la cantante e Fortnite Infatti dopo ben due skin ragazzi abbiamo in teoria una nuova versione Infatti come possiamo vedere vi mostro innanzitutto questa immagine qui che vedete alla mia destra Come possiamo vedere infatti questa che vedete qui potrebbe essere una nuova versione Dedicata insomma a Ariana Grande ovviamente Ma versione insomma natalizia Infatti come possiamo vedere la società HYBE che lavora con Ariana Grande Ha annunciato in una conferenza che lavorerà con Fortnite in futuro E qui come possiamo vedere potremmo aspettarci un costume di Ariana Grande Versione insomma natalizia Preso insomma questa immagine ovviamente da un suo insomma videoclip di una sua canzone Quindi sembrerebbe che questa insomma Ariana Grande versione natalizia Possa essere la sua prossima skin Poi ovviamente non è ancora confermato Però insomma secondo i leaker è molto probabile Siccome ci sarà un'altra collaborazione Inoltre si parla anche tantissimo di una nuova emote Dato che nel suo set manca un emote Quindi potrebbe anche aggiungersi poi un emote Comunque vedremo ovviamente non è ancora però confermato Infatti come possiamo vedere HYBE Che è sempre quell'azienda che collabora strettamente con Ariana Grande Ha menzionato al minuto 41 di una videoconferenza Sembrerebbe di una diretta Ha menzionato faremo un'attivazione intorno a Fortnite nelle prossime settimane Apparentemente è qualcosa quindi collegato con Ariana Grande e Fortnite Che succederà ovviamente in futuro Quindi verso la fine di novembre barra inizio dicembre Avremo questa nuova collaborazione Ripeto l'abbiamo visto prima Potrebbe essere un emote Potrebbe anche essere la skin che abbiamo visto Versione natalizia Diciamo che queste sono le più diciamo Ipotesi probabili di questa collaborazione Che ripeto non è ancora confermato cosa avremo Si ipotizza per appunto questi due cosmetici Ma poi ovviamente non è detto Altra news molto importante Che ci tenevo insomma ancora diciamo un po' a pallarne È il fatto che ormai la 18.40 come ben sapete Anche quella patch è iniziata insomma ovviamente a essere testata Quindi sarà innanzitutto ragazzi la prossima patch L'ultimissimo aggiornamento per questa stagione Quindi questo vuol dire che da martedì prossimo Ovvero per chi non lo sapesse Questo martedì chiaramente non c'è stata la patch Ci sarà martedì ancora quello dopo E avremo l'ultimissimo aggiornamento di questa stagione Cosa vuol dire che molto probabilmente scopriremo anche Dei indizi magari per l'evento finale Che secondo me ci sarà Scopriremo anche magari qualcosa già se ci sarà O meno questa stagione 9 o capitolo 3 Quindi avremo maggiori informazioni Siccome ragazzi è l'ultimissima patch di questa stagione Ebbene sì quindi per un bel periodo Quindi se non erro ben un mese quasi Non avremo nessun aggiornamento Quindi ovviamente speriamo che la 18.40 La implementino in maniera giusta Che insomma questo aggiornamento possa mettere eventi e roba varia Per tutto questo mese Anche perché poi non avendo più aggiornamenti Non ci sarà più niente che possono aggiungere Quindi speriamo veramente che lo gestiscono bene Questo aggiornamento dato che è l'ultimo Quindi se tutto va bene ragazzi Dovrebbe essere un aggiornamento parecchio grosso Di dimensioni grandi siccome sarà un aggiornamento Che deve coprire ben un mese di stagione Quindi sicuramente all'interno di questo aggiornamento Poco ma sicuro se c'è l'evento finale Cosa che credo sicuramente Sarà decriptato insomma il file dell'evento In quest'ultimo aggiornamento Io credo Dato che non ci sono più possibilità di insomma Di avere un aggiornamento in questa stagione Magari scopriremo ripeto qualcosa del capitolo 3 Se ci sarà o meno Se ci sarà sempre la stagione 9 Quindi speriamo insomma che sia un aggiornamento Che riesca a riempire tutto il mese di assenza di una patch Poi ovviamente verranno decriptate nuove skin Speriamo nuovi eventi Quindi ripeto Comunque sarà definitivamente l'ultimo aggiornamento per questa stagione Questo perché? Perché Epic ha iniziato a testare Già come vi ho detto La patch della nuova season barra capitolo E quindi in poche parole Essendo che ha già iniziato a lavorare per quella patch Vuol dire che non c'è la 18.50 Quindi sarà l'ultima patch di questa stagione A 18.40 Detto questo invece ragazzi Parliamo un po' di Fortnite Cina Un argomento veramente super discusso In questi ultimi giorni Infatti si parla tantissimo delle ricompense Che venivano insomma date gratis ai utenti in Cina Si parla ovviamente tantissimo del fatto Che è stato anche chiuso Adesso oggi andremo a vedere tutte queste informazioni Infatti per chi si fosse insomma perso qualcosa Perché Fortnite verrà chiuso? Qual è la motivazione? Sembrerebbe che Fortnite Innanzitutto ragazzi Non è mai stato lanciato ufficialmente in Cina Ma è stato sottoposto a lunghi test Durante questi insomma ultimi due anni Senza mai avere l'approvazione ovviamente Da parte del governo cinese Per insomma rendere Fortnite Un gioco ufficiale in Cina E questo ovviamente Comporta che innanzitutto Fortnite non ha potuto monetizzare In questi ultimi due anni Dagli acquisti Dato che ovviamente non c'era Diciamo la versione ufficiale di Fortnite in Cina Inoltre ragazzi i giochi Battle Royale Provati in Cina Hanno pesanti cambiamenti di contenuto Per esempio niente sangue Niente diciamo ossa Quindi non si possono vedere gli scheletri Deve insomma essere molto molto Ma molto tranquillo come gioco Non deve essere un gioco violento ecco E quindi ragazzi Per via insomma di tutti questi motivi Tra le altre cose Per chi non lo sapesse Fortnite comunque è stato modificato Anche pesantemente Non è diciamo lo stesso gioco Che abbiamo noi in Cina E ovviamente modificato Secondo ovviamente le leggi Che ci sono per il governo cinese Quindi se tra l'altro Non avete mai visto un gameplay Di Fortnite in Cina Andatelo a vedere Perché così capito un attimo E per via di tutte queste cose Dato che non potevano né monetizzare E quindi in pratica non c'erano soldi Ed erano solo costi aggiuntivi E dopo due lunghi anni Praticamente non c'è stata mai Questa approvazione Hanno deciso di chiudere tutto E a questo ragazzi Ci colleghiamo poi Alle ricompense esclusive Per i giocatori della Cina Che sono esattamente queste Per chi non le avesse mai viste Sono veramente rarissime Non le ha nessuno Se non ovviamente i giocatori della Cina E qualcuno che insomma È riuscito ad accedere Ai server di Fortnite in Cina E poi anche se non era effettivamente in Cina È riuscito insomma Ad avere queste ricompense Non chiedetemi come Credo che sia una cosa Veramente difficile a fare Quindi non ho idea di come si faccia Però diciamo che Dato che i server di Fortnite Della Cina Verso il 15 novembre Se non erro Verranno totalmente chiusi Praticamente su Twitter Tantissimi famosi digger Hanno riasciato questo post Ad esempio che vi metto alla mia destra Che dicano Prima che chiudano i server di Insomma Fortnite e Cina La gente chiede di dare Insomma Le ricompense Che avevano I giocatori della Cina Anche per tutti i giocatori Dell'altro Insomma Degli altri continenti Quindi in Europa In America Non solo i giocatori Quindi della Cina E come possiamo vedere Sono ovviamente Queste ricompense Quindi voi cosa ne pensate Le vorreste Secondo voi è giusto Magari dato che i server Di Fortnite In Cina Verranno chiusi È giusto Secondo voi Che adesso Tutte queste ricompense Che prima erano Un'esclusiva della Cina Vengano date invece a tutti gli altri giocatori Anche magari nei negozi oggetti O magari gratis Tramite un evento O tramite qualcosa Infatti guardatecene un altro Cioè se voi cercate Fortnite Cina Su Twitter Ci sono una valanga Di post Di richieste Come possiamo vedere Da parte degli utenti Di insomma Implementare Queste ricompense Esclusive della Cina Adesso Anche per tutti gli altri utenti Siccome ovviamente Varrà chiuso il server In Cina E quindi rimarranno Praticamente nei file di gioco Così nel nulla Ecco Fatemi sapere ovviamente Cosa ne pensate Tutte le vostre teorie Se secondo voi Insomma Epic Games Rilascerà Questi oggetti esclusivi Che prima erano Della Cina A tutti noi Fatemelo sapere qua sotto Nei commenti E soprattutto Fatemi sapere Se le vorreste Quindi ragazzi Chi lo sa Magari un giorno Epic Deciderà di implementare Queste ricompense Adesso anche Per tutti gli altri Non ne idea Speriamo Perché sono comunque Ricompense veramente Molto carine Che sono Tra l'altro Super OG Perché questi oggetti Erano stati dati Se non erro Tutti Nella stagione 5 Capitolo 1 Quindi si tratta Comunque anche di Items belli vecchiotti Riasciati ormai anni fa E fatemi sapere Cosa ne pensate Noi comunque Ci vediamo domani All'idiot Con un nuovissimo video Ti ricordo anche Che è uscito un video Su TikTok Quindi mi raccomando Valla a vedere Detto questo Ci vediamo domani Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti